Entro dicembre si stima che saranno 48.000 i casi di tumore che colpiranno la popolazione. A fronte di questo dato, che è in aumento rispetto agli anni passati, è incoraggiante la percentuale dei casi di guarigione, quasi il 98%. Grazie alla prevenzione, afferma il professor Francesco Schittulli, presidente nazionale della LILT, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, sono stati fatti passi da gigante e sono numerosissimi i casi di persone salvate da un male che altrimenti sarebbe stato devastante. Ottobre come novembre sono dedicati alla prevenzione, ma, continua Schittulli, si deve sensibilizzare tutti alla corretta informazione, sempre perché oggi la prevenzione resta l'arma più efficace per vincere il cancro. Ma io devo ringraziare intanto Telesveva perché ha avuto un atto di sensibilità estrema nel continuamente supportare questa campagna promozionale, questa campagna che è tutta dedicata alla donna e tutta al femminile, proprio per cercare di debellare questa malattia, una malattia che possiamo vincere, quella del cancro al seno, vinciamo già nell'80% dei casi ed oltre, dobbiamo arrivare al 98% di guarigione e quindi dobbiamo dare un messaggio non positivo o di speranza, ma di certezza perché questo è un tumore che non deve fare più paura perché si vive e si vive bene anche con il cancro al seno perché non deturpa più quest'organo e quindi il mio grazie sentito va a questa mittenda Telesveva per l'opera che è spetta quotidianamente. Detto questo però, le nostre donne sono abbastanza consapevoli oggi di questa problematica e che richiedono che vengano effettuati questi controlli, questi esami. Noi dobbiamo garantire loro tanto. Io su questo territorio, soprattutto sulla BAT, oltre al Presidente Cignero, al suo attivismo, contiamo anche su tante volontarie, soprattutto donne, che sono più sensibili rispetto a noi maschietti, sanno anche il valore della sofferenza e quindi si dedicano davvero con amore. Beh, io devo ringraziare anche loro per queste iniziative. Quest'anno sono tante le richieste che addirittura allungheremo questo periodo a tutto il mese di novembre, sempre però dando la nostra disponibilità anche per tutti i mesi dell'anno. Nell'ambito della rubrica Culturalmente, in onda su Telesveva, oggi alle 15 e in replica alle 20 e 25, ci sarà un'ampia intervista al Professor Schittulli in tema di prevenzione e cura dei tumori.